Salve, salve da Marco Calabro. Amaci Casa Italia oggi per conto di Co-Credit. Stiamo vedendo un orologio oggi. Questo orologio è un orologio, stiamo facendo una breve recensione, è un orologio Cronotec. La prima cosa che salta all'occhio della Cronotec, vedete che l'apparecchio ha difficoltà a ponersi a fuoco, la prima cosa che salta a fuoco della Cronotec è il fatto che ha un vetro, vediamo, prismatico. La prima cosa da dire su questi vetri, che comunque sono gradevoli, piacevoli, e sono quasi una firma per Cronotec, la prima cosa da dire su questi vetri di copertura degli orologi è il fatto che questo tipo di vetro non ha una guarnizione e quindi è direttamente incollato all'orologio. Questo significa che in caso di eventuale rottura e bisogna cambiarlo, dovete tenere in considerazione che bisognerà andare da un professionista per fare questa operazione. Non può essere fatta in maniera direttantesca. L'orologio, vediamo che è un orologio che ha i quattro numeri arabi alle quattro punte, vediamo il 3, il 6, il 9 e il 12. Non ha altri riferimenti all'interno. Il fondo della cassa è abbastanza gradevole, stiamo parlando di un fondo puntellato che dà motivazione e dà movimentazione allo stesso orologio. La cassa è una cassa in acciaio, vediamo, stiamo parlando di una cassa piuttosto semplice. Qui vediamo la corona anch'essa in acciaio. Passiamo ai particolari, chiaramente il cinturino è in pelle, vediamo che viene lavorato come se fosse lucertola. Qua all'interno del cinturino in pelle troviamo il marchio Cronotec e qua all'interno vediamo la sigla dell'orologio. Vediamo nella cassa d'acciaio, è andata fuori fuoco, che c'è scritto RW0094. Questo è il codice del, vediamo se si mette a fuoco, questo è il codice dell'orologio. E proseguo, eccolo qua, adesso si sta vedendo, RW0094. Vado avanti, dall'altro lato vediamo del cinturino, c'è scritto che è pura pelle. Sempre ricordo che nel caso uno acquisisca questo orologio con co-credit, ricordiamoci che è importantissimo essere guardare il cinturino. Quindi se uno vuole rendere l'orologio dopo un anno, oppure permutarlo dopo due anni, è bene che metta un cinturino differente da questo all'orologio, in modo che all'atto della consegna della restituzione dell'orologio a co-credito, uno possa restituirlo con lo cinturino originale, perché questa è una grande influenza in termini economici sul valore del bene. Vediamo alla fine, sulla cerniera, il brand della Cronotec. Stavamo parlando dell'orologio, evidentemente per signora, dell'orologio RW0094 di Cronotec. Lo alzo un poco perché oggi abbiamo un po' di difficoltà con... Eccolo qua. Beh, il prisma anche influisce in questo problema della messa a fuoco. Questo è l'orologio, così come fa Cronotec, con il cristallo a prisma. Grazie sempre per ascoltare i video di Amaci Casa Italia e arrivederci al prossimo video.